Pausa alle spalle, è ora di riaccendere i motori con il primo turno del 2019, inizio del girone di ritorno per una Serie D che si prepara ad entrare nel vivo. Il calendario di giornata, anch'esso colpito dal maltempo che ha fin qui portato ai rinvidi e ai derby Bitonto-Taranto e Team Altamuro-Nardò, presenterà tanti spunti interessanti. Nel girone I, dopo il pari contro i Roccella con il quale ha chiuso il 2018, il Bari riprenderà ospitando al San Nicola e il Messina in un match dal fascino antico. I siciliani che l'andata battezzarono la prima dei galletti in Serie D navigano in acque agitate con un terzo-ultimo posto in classifica assolutamente deludente. Per la squadra di Cornachini l'imperativo sarà tornare al successo e continuare senza affanni la marcia verso il ritorno tra i professionisti. Nel girone H rinviate al 16 gennaio alle 14.30 i derby Bitonto-Taranto e Team Altamura-Nardò, a forte rischio anche la gara del Fasano contro il Granata-Ercolanese, le attenzioni saranno tutte puntate sulla sfida interna del Cerigniola che ospiterà al Monterisi il Pomigliano e su quella che vedrà la Fidelisandria scendere in campo a Degli Olivi contro la Gelbison. Per i gialloblu che hanno chiuso l'anno con l'importante successo contro il Francavilla, l'impegno non appare dei più ostici visto l'andamento della squadra campana che pur avendo concluso il 2018 con l'importante successo nella sfida salvezza contro la Sarnese occupa la penultima posizione e non appare in grado di impensierire la corazzata di Dino Bitetto, sempre seconda a meno 5 dalla capolista Picerno impegnata nel difficile match sul campo del Savoia. Sulla carta abbordabile sembrerebbe essere anche l'impegno della Fidelisandria. I federiciani sono chiamati a riscatto dopo il doppio K1 ai derby con Gravina e Team Altamura e la sfida ai rosso-blu campani appare l'occasione giusta per riprendere il cammino verso la zona playoff. Il quadro degli impegni delle pugliesi di Serie D vedrà anche la sfida del Gravina in casa della Sarnese con i murgiani in campo con l'obiettivo di dare continuità ai buoni risultati ottenuti nei derby contro Fidelisandria e Fasano terminati con una vittoria ed un pari esterno.